Torture, minacce, insulti razzisti perpetrati da alcuni poliziotti. Ci sarebbe stato questo e tanto altro all'interno dell'acquistura di Verona. Com'è che non l'hai ammazzato? Mi raccomando, quelle che non gli hai dato prima, dagliele dopo. Tutto si sarebbe svolto all'interno della stanza in cui vengono identificati i fermati che gli agenti chiamano l'acquario. Gli ho lasciato la porta aperta in modo tale che uscisse, perché io so che c'è la delegavera dentro. Appena è uscito dall'acquario, appena è uscito, mi guarda, mi ero messo il guanto, ho caricato una stecca, bam, lui chiude gli occhi, di sasso, per terra è andato a finire, è rimasto là, è svenuto. A parlare Alessandro Migliore, uno dei cinque poliziotti arrestati per tortura, lesioni, falso, peculato e abuso d'ufficio. Al telefono con la fidanzata, Migliore racconta tra le risate il trattamento riservato ai fermati. Il tossico diceva, vi spacco sbirri di m***a e allora il collega gli dice, ti faccio vedere io quante capocciate la porta. Boom, boom, boom. Sono 17 gli agenti accusati delle violenze avvenute tra luglio 2022 e marzo scorso e altri 23 poliziotti sono stati trasferiti perché sapevano e non hanno fatto niente. Quasi metà della squadra volanti di Verona è coinvolta nelle indagini. Un'inchiesta nata da un'intercettazione telefonica compiuta nell'ambito di un'altra indagine. Un agente si vantava di aver messo al suo posto con due schiaffi un fermato, una piccola tessera di un mosaico molto più grande, fatto di violenze e abusi ai danni di immigrati, tossicodipendenti e senza tetto, ricostruiti nelle 170 pagine di ordinanza. Mentre mi portavano in questura mi dicevano, tunisino di m***a, figlio di m***a, sono svenuto e quando mi sono svegliato un poliziotto mi stava pisciando in faccia. Quello dell'urina è un elemento ricorrente negli abusi alla questura di Verona, come racconta un altro dei fermati. Stavo male, mi hanno spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi e mi hanno usato come uno straccio per pulire la mia stessa urina. Un comportamento crudele, sadico e volutamente lesivo della dignità, scrive il GIP. Contestata anche l'aggravante raziale, quasi tutte le vittime erano straniere. Negli uffici di polizia sono accaduti dei fatti che sono quelli oggetto di indagine. E a indagare sono stati gli stessi poliziotti che scoperti gli abusi hanno deciso di segnalare i loro stessi colleghi. Con sofferenza perché indagare su colleghi è sempre un momento umanamente non semplice. Gli investigatori hanno messo in campo tutta la professionalità per mettere a disposizione della magistratura tutti gli elementi necessari ad accertare i fatti.